Avete sentito le ultime? Giorgia Meloni è in preda alla paura e il motivo potrebbe sorprenderci tutti. Cos'è che Mattarella sta tramando contro di lei? Restate con noi per scoprirlo. Non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità. Negli ultimi giorni, il panorama politico italiano è stato scosso da un avvertimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le sue parole hanno sollevato molte discussioni, soprattutto in relazione alla controversa riforma costituzionale promossa dalla premier Giorgia Meloni. Mattarella ha evidenziato l'importanza della democrazia partecipativa, affermando, per definizione, democrazia è esercizio dal basso, legato alla vita di comunità, perché democrazia è camminare insieme. Questo messaggio arriva in un momento critico, poiché Meloni sta spingendo per una riforma che introdurrebbe il premierato, una mossa che molti vedono come un tentativo di consolidare il potere. Secondo alcune fonti, Giorgia Meloni avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori di temere che l'ostilità del Quirinale possa sabotare il suo progetto. La paura della premier è che un eventuale referendum possa portare a richieste di dimissioni da parte sua. In privato, avrebbe discusso questo scenario con persone di fiducia come Giovanni Battista Fazzolari, Alfredo Mantovano, la sorella Arianna e il ministro Francesco Lollobrigida. Per superare queste difficoltà, Meloni sta valutando diverse strategie. Tra queste, la possibilità di elezioni anticipate per ottenere una nuova legittimazione popolare, seguita dalla promozione di una riforma presidenziale senza ostacoli. Una delle ipotesi sul tavolo è l'introduzione di un sistema elettorale a doppio turno alla francese, che permetterebbe ai cittadini di scegliere direttamente il governo tramite un ballottaggio finale. Tuttavia, questa proposta incontra resistenze all'interno dello stesso centrodestra, evidenziando le fratture politiche che potrebbero complicare ulteriormente i piani della premier. Le parole di Mattarella hanno toccato un punto nevralgico della democrazia italiana. Cosa ne pensate? Mattarella è veramente troppo interessato a conservare il potere? Lasciateci le vostre opinioni nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere like al video e condividere per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Secondo voi, Meloni riuscirà a superare queste difficoltà o vedremo un cambiamento radicale nella politica italiana? Restate connessi per altri aggiornamenti.